il problema del reclutamento del personale docente nella scuola parliamo con mario maviglia lui è stato per molti anni dirigente tecnico anche provveditore nella città di brescia in lombardia senti mario ma tu cosa pensi di questo problema perché qui ogni anno che passa e le difficoltà sembrano aumentare il problema non si risolve giustamente tu dici che è un problema di fatto antico ed è così nel senso che è da anni che si fascina non se nessun ministro è riuscito mai a trovare una una soluzione il sistema è molto complicato perché prevede molti passaggi e non sempre questi passaggi si incastrano in maniera razionale nell'iter che dovrebbe portare poi alla ad avere gli insegnanti in in cartera l'idea che mi sono fatta che quest'anno è stato un po particolare perché c'è stato anche l'aggiornamento delle graduatorie gps e questo chiaramente ha comportato un carico di lavoro ancora maggiore per la macchina amministrativa però probabilmente sono state create delle strutture o meglio sono state depotenziate delle strutture legacy i quelli che una volta erano i provveditorati che non sono più in grado di reggere questo tipo di processo questa macchina perché sono stati svuotate degli organici perché non ci sono le competenze adeguate perché chi subentra a chi va in pensione non sempre c'è un passaggio di consegno o di formazione adeguata ci sono tanti problemi che in modo particolare ripeto quest'anno hanno influito negativamente c'è poi anche questo da dire che noi sappiamo ed è un dato non aleatorio è un dato certo matematico tanto che non cambia la legge evidentemente che l'anno scolastico inizia il settembre quindi noi sappiamo già che l'anno prossimo nel 2025 l'anno scolastico inizierà il primo settembre a meno che il parlamento ripeto non prenda una decisione diversa questo dovrebbe molto favorire la macchina amministrativa perché è chiaro che tu hai un come dire un punto di arrivo conosciuto con largo anticipo e sei nella possibilità dovresti essere nella possibilità di fare tutte le operazioni prodromiche che vanno a confluire poi in questo atto finale in questa decisione finale nella nella l'inizio dell'anno scolastico detto in altre parole cosa vuol dire è che forse tutte le varie operazioni di missione ruolo di svolgimento dei concorsi e quant'altro se non si concludono entro il 31 agosto perché col primo settembre inizia l'anno scolastico anzi ti dirò di più se col primo settembre non sei in grado di mettere le persone in ruolo in seguito allo svolgimento del concorso delle altre varie diavolerie che noi abbiamo in ballo nessun problema slitta tutto al primo settembre dell'anno successivo cioè nella mia idea l'unico modo per risolvere il problema è che col primo settembre si fermano le bocce e non si muove più nessun docente almeno di ruolo anche se ha diritto anche se potrebbe andare da qualche altra parte col primo settembre si fermano le carte si vengono congelate e se qualcuno ha diritto all'emissione ruolo entrerà in ruolo l'anno prossimo e nel frattempo lavora dove si trova collocato questo potrebbe già questa piccola rivoluzione che potrebbe già comportare una non risolve il problema però come dire attenua molto la portata del problema mario tu l'hai definita una piccola rivoluzione a me sembra invece una grande rivoluzione perché vorrebbe dire rivedere un po' completamente l'idea che noi abbiamo delle operazioni di assunzione e poi con tutto quello che è collegato le operazioni di definizione degli organici trasferimenti le assegnazioni provvisorie cioè ne verrebbe sconvolto un po' tutto il calendario delle procedure o no in realtà ti correggo su un piccolo passaggio verrebbe sconvolto il punto di vista del decisore amministrativo perché oggi tutta la macchina e tutte le operazioni sono pensate in funzione dei docenti del personale e gli studenti dove stanno io ragiono in maniera diversa io dico col primo settembre se non è il primo il 12 settembre l'8 settembre quando iniziano le lezioni i ragazzi le ragazze gli studenti hanno diritto ad avere l'insegnante in classe questa è la mia preoccupazione e sulla base di questa tu organizzi tutte le operazioni è proprio l'occhio che cambia il punto di vista allora se adotti questo punto di vista del rispetto del diritto all'attenimento degli studenti farai sì delle operazioni violentando l'amministrazione nel senso di ponendo in essere delle procedure che ti consentono ad arrivare alla fine di agosto avendo chiuso tutto e se non è possibile chiudere tutto chiudi comunque questo dicendolo prima ovviamente esplicitandolo prima ci sono delle procedure concorsionali in ballo si concluderanno nel corso dell'anno e i docenti verranno immessi l'anno successivo quindi allora questo vuol dire dal primo di settembre la palla passa alle scuole ovviamente per le supplenze annuali o comunque per tutte quelle operazioni che non sono operazioni legate al reclutamento è così esattamente tutta la parte della immissione ruolo è stata gestita dal ministero dalle direzioni regionale dai uffici scolastici e territoriale comunque dall'amministrazione centrale e periferica tutta la parte che invece riguarda le supplenze temporanee annuali a qualsiasi titolo vengono gestite dalle scuole ovviamente sulla base di graduatorie che sono state compilate prima ma anche qui quando il docente fa una domanda attraverso le istanze online piuttosto che altre piattaforme eccetera di essere inserito in graduatoria va a scegliere le scuole e qui si potrebbe decidere sul numero di scuole da scegliere eccetera oggi mi sembra fin troppo eccessivo il numero che viene così consentito comunque quindi si sa già quali sono i docenti che hanno scelto quella scuola piuttosto che l'altra eccetera eccetera quando iniziano le lezioni che la scuola ha bisogno di un determinato docente di una determinata cattedra soprattutto nelle scuole medie superiori beh va a segnalare a sistema a prenotare quell'insegnante e quell'insegnante in automatico nel momento in cui viene prenotato dalla scuola in automatico quell'insegnante non è disponibile il sistema non lo dà disponibile per altre supplenze chiaramente essendo il primo la scuola va a dare a quell'insegnante la supplenza più ambita più lunga diciamo senti Mario però c'è anche l'altro l'altro aspetto alcune organizzazioni penso per esempio soprattutto all'associazione nazionale presidi dicono che questo problema si può risolvere in un modo solo cioè attribuendo al dire al dirigente scolastico il potere la responsabilità di assumere direttamente tu pensi che questa strada potrebbe essere percorribile nel nostro paese assolutamente sì certo però attenzione correlativamente bisogna anche sottolineare dopo e questo non so quanto possa piacere ai dirigenti scolastici che nel momento in cui tu hai scelto quelle persone e quelle persone non funzionano bene si interviene sulle persone che non funzionano bene però anche su di te che la ricerca le hai scelte quindi è una arma a doppio taglio la np vede solo la parte del bicchiere pieno io vedo quella del bicchiere vuoto dal punto di vista dirigente perché poi non puoi lamentarti se un insegnante funziona male lo hai scelto tu e quindi paghi anche tu per eventuali problemi che dovessero succedere senti mario tu hai trascorso nella scuola un tempo veramente molto lungo forse siamo quasi vicino al mezzo secolo a partire da quando sei uscito dall'università o comunque dalla scuola superiore fino a quando poi sei andato in pensione se non è mezzo secolo ci siamo molto vicini ecco in che idea ti sei fatto in mezzo secolo alcune storture del nostro sistema scolastico possono essere affrontate risolte oppure continuiamo a rimanere alla situazione di mezzo secolo fa io ho passato 46 anni nella nella scuola tra insegnante direttore didattico ispettore provveditore quant'altro però devo dire con una battuta alla giannacci che ho lavorato per 46 anni e non ho saputo per quale azienda lavorasse quindi che lavoro facesse ecco no è cambiato questo però in peggio quando ero direttore didattico io di un circolo didattico quindi scuole dell'infanzia statali e scuole primarie scuole elementari nelle scuole medie erano assistanti mi ricordo che gli insegnanti potevano scegliere una sola scuola o due massimo quindi potevano essere inserite in due graduatorie di scuola e se tu non accettavi una supplenza venivi escluso dalla graduatoria quindi erano regole molto più rigide di quelle che ci sono adesso e dopo sono diventate 10 se non sbaglio le scuole che potevi scegliere nel tempo diciamo che sempre di più sempre di più è stata posta l'attenzione sulle richieste sulle aspettative sugli interessi degli insegnanti dei lavoratori giustissimo ti faccio però un altro ragionamento adesso che sembra non centrare nulla quando ho iniziato io ho fatto i conti a mio figlio che insegna soltanto a milano all'epoca con uno stipendio con uno stipendio io coprivo in un appartamento insieme ad altri lavoratori evidentemente uno spedio molto misero però coprivo un anno di affitto oggi a milano con uno stipendio copri tre mesi di affitto tra il se ben sono allora ti chiedo sono stati diciamo avvantaggiati i lavoratori per quanto riguarda la scelta delle scuole poi abbandonare la super non succede nulla eccetera eccetera però su altri piani i lavoratori i docenti in questo caso sono stati fortemente penalizzati perché oggi il loro potere d'acquisto è addirittura inferiore ma di parecchio rispetto a 40 45 anni fa allora questo la dice lunga su dove si è puntato cioè i sindacati invece di puntare l'attenzione in maniera forte in maniera determinata e anche rigida sul potere sul valore del potere d'acquisto dei lavoratori e quindi su un livello di vita che sia dignitoso in qualsiasi parte d'italia si sono di più diciamo hanno puntato di più l'attenzione talvolta spesso su aspetti certo di organizzazione del lavoro marginale che però non hanno diciamo consentito di quella dignità anche economica ai lavoratori io la vedo la vedo così perché oggi di fatto ce lo dicono le varie indagini anche internazionale gli insegnanti italiani non è che siano messi bene come livelli retributivi rispetto ad altri gli altri colleghi della unione europea e hanno però sembra che abbiano tutte queste altre possibilità che magari gli altri non hanno perché sono molto più legati alla scuola in quasi tutti i paesi dell'unione europea c'è uno stretto legame con la scuola non è che poi cambiare così facilmente passare da una scuola all'altra a meno che la scuola appunto non ti faccia un contratto ad hoc secondo la prospettiva della np però però poi paghi anche di più come management come organo decisore bene quindi il cerchio si chiude insomma diciamo così eh perché i problemi sono anche relativi alle risorse che davvero eh il paese eh non dico soltanto il governo di turno ma il paese nel suo insieme vuole intende decide di spendere per eh tenere in piedi il sistema scolastico e probabilmente con un impegno maggiore si potrebbe anche risolvere questo nodo del reclutamento che ormai continua a eh essere il buco nero diciamo così del nostro sistema scolastico grazie a Mario Maviglia per queste sue grazie a voi grazie a tutti